Buongiorno, sta per riunirsi proprio il CASA, Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo. Sarà presieduto al Viminale dal Ministro dell'Interno, Piantedosi, con elementi della Polizia e dell'Intelligence. Lo scopo del Comitato è valutare il livello di allerta alla luce di quanto accaduto, gli attentati incendiari, intimidatori ai danni delle nostre sedi all'estero, ad Atene, Berlino e Barcellona, le auto della Polizia, da Terra Fiamme a Milano, il ripetitore a Torino, la manifestazione dell'altro giorno a Roma. Ma sentiamo ieri in conferenza stampa proprio il Ministro dell'Interno, Piantedosi. Non ci sono motivi, adesso poi faremo un'analisi, né per dire che va tutto bene, che quindi non è successo niente in questi giorni, che non ci imponga di riflettere su ogni ennazzamento possibile dell'attenzione, ma neanche che siamo con la minaccia terroristica dietro l'angolo. Non si farà nessuna valutazione specifica sul 41 bis o sul vicenda cospito, ma gli eventi degli altri giorni impongono un'ulteriore riflessione su quello che è il livello di allerta e l'eventuale, come dicevi da studio, innalzamento delle misure di sicurezza. Per ora dal Viminale con Marco Aquile è tutto a voi.